Passaggio delle consegne in Camera di Commercio di Ragusa tra il segretario generale uscente Carmelo Arezzo e il nuovo segretario generale, il modicano Vito D'Antona. Il passaggio avviene nella piena continuità amministrativa e funzionale con la storia dell'ente camerale, dato che D'Antona fino a ieri ha ricoperto il ruolo di vice segretario generale dell'ente di Piazza Libertà. Da oggi viene chiamato a guidare la Camera di Commercio proprio in questo difficile e complesso momento che prelude all'accorpamento la nuova Camera di Commercio unificata della Sicilia orientale con Catania, Ragusa e Siracusa. I due dirigenti camerali hanno già incontrato il personale della Camera di Commercio e il presidente dell'ente Giuseppe Giannone per fare il punto sui risultati conseguiti finora per indicare le linee di sviluppo dell'azione camerale anche in vista delle nuove immidenti scadenze. D'Antona ha gestito sino ad oggi l'area interna organizzativa e contabile dell'ente, conosce bene quindi le vicissitudini dell'ente stesso, i meccanismi organizzativi e finanziari fondamentali per pianificare il futuro della Camera di Commercio anche se unificata.